Una volta avviato Adobe After Effects il primo pannello che ci viene in soccorso è quello della home screen. All'interno della nostra home screen After Effects ci mette a disposizione una serie di parametri che ci permettono di creare un nuovo progetto o di aprirne uno in particolare o uno recente. Infatti come potete vedere io qui sotto in questa sezione ho una serie di progetti in corso su cui sto lavorando che Adobe After Effects mi ricorda perché sono gli ultimi progetti che ho aperto. Mentre qui alla mia sinistra ho la possibilità di creare un nuovo progetto o di aprirne uno già esistente. In questo caso creiamo un nuovo progetto. Una volta cliccato il pulsante per creare un nuovo progetto nulla accade se non che quel pannello viene chiuso e si aprirà un progetto totalmente vuoto. Ora per cominciare a lavorare noi abbiamo bisogno di creare una nostra prima composizione e ci sono in questo caso tre opzioni per poterlo fare. La prima è quella di cliccare sul pulsante qui all'interno del pannello della composizione New Composition. La seconda è quella di andare su Composition New Composition oppure la terza possibilità è quella di cliccare su questa iconcina Create New Composition qui all'interno del pannello di progetto. Una volta cliccata una di queste tre opzioni ci si aprirà il pannello delle impostazioni della nostra composizione dove noi possiamo andare a dargli un nome, possiamo andare a scegliere un preset per le nostre impostazioni e ce ne sono davvero tanti all'interno o altrimenti andare semplicemente a mano a impostare tutti i parametri. Vediamo quali sono i parametri che possiamo e che dobbiamo andare ad impostare. Naturalmente il primo è la larghezza e l'altezza del nostro fotogramma. Nel mio caso ho selezionato il preset HDTV 108025 che sta a significare per un Full HD a 25 fotogrammi al secondo in progressivo. Full HD 1920x1080 a 25 fotogrammi al secondo e infatti dato il preset abbiamo una larghezza di 1900 pixel, un'altezza di 1800. Qua ci viene detto che l'aspetto dei pixel è di uno ad uno quindi square pixel, il pixel è quadrato. Possiamo scegliere altre opzioni nel caso abbiamo a che fare con materiale che viene ingestato con queste opzioni. Possiamo andare a scegliere il frame rate. Nel mio caso è 25 perché lo riporta il preset ma possiamo tranquillamente utilizzare un altro frame rate. In questo caso ad esempio ho messo 24 ed esiste un altro preset. Lui lo ha cambiato in automatico. Possiamo tranquillamente mettere un frame rate a caso e lui ci dirà che stiamo creando una composizione con un preset personalizzato. Ritorniamo su 25. In questa finestra di risoluzione possiamo andare a dire al nostro software in che risoluzione vuole lavorare o mostrarci la lavorazione in tempo reale. Questa opzione può essere facilmente cambiata mentre lavoriamo quindi di norma io lascio sempre la risoluzione in full. Infatti lui ci mostrerà il file 1920x1080. Nel mio caso ho un'opzione specifica impostata che imposta 16 milioni di colori. Di norma viene impostata con 8 milioni di colori. Ora vi faccio vedere come si cambia questa impostazione. Faccio cance. Su questo pulsantino qua dove leggiamo scritto 16 bpc se noi andiamo a cliccare possiamo scegliere la profondità dei nostri colori. Io lavoro con 16 bit ma di norma il software lavora ad 8. Non c'è bisogno di lavorare per forza a 16. Ci sono delle necessità specifiche per dover lavorare a 16 quando si lavora con del materiale girato che è stato girato con più di 8 bit. Quindi ad esempio i file delle macchine da presa. Quindi nel mio caso lavoro a 16 bit ma per creare dei contenuti grafici si può tranquillamente lavorare con 8 bit. Torniamo sul nostro pannello di composizione dei settaggi della composizione e andiamo adesso altri due parametri molto interessanti. Il primo è lo start time code mentre l'altro la durata. È facile intuire il secondo parametro. Questa è la durata che avrà la nostra composizione che volendo possiamo sempre cambiare in un secondo momento. Ma di base impostare una durata può essere utile quando andiamo a lavorare special modo se stiamo lavorando con un'animazione quindi impostando una durata sappiamo che la nostra animazione quello che vediamo in timeline ha quella durata effettiva. Mentre lo start time code è un'opzione molto interessante quando si lavora con dei file video girati da una macchina da presa. Ogni file video girato con una macchina da presa ha un time code quindi un codice temporale con cui noi possiamo andare a ricopiarlo rispetto a quello del file originale così la nostra composizione avrà lo stesso time code di quel file girato. Molto spesso può capitare di avere file con un time code a zero e quindi noi partiremo da zero. Ma ci sono altri casi in cui può essere comodo special modo quando si lavora con delle produzioni in team con altre persone utilizzare un time code univoco perché così è più facile raggiungere quel preciso punto della nostra composizione tra il file originale e quello lavorato. Infine abbiamo un altro parametro che quello dello sfondo del colore di sfondo colore di sfondo che ci servirà solo ed esclusivamente per la preview di base nero e il consiglio di lasciarlo nero perché non ha alcuna influenza sul risultato finale ma è soltanto il colore di sfondo per poter lavorare. Infine abbiamo altre due impostazioni altri due pannelli uno ci porta alla selezione del tipo di motore di render 3d che vogliamo utilizzare e ne abbiamo di due tipologie quello integrato di adobe after effect e quello invece di cinema 4d. Cinema 4d che è molto integrato in adobe after effect tant'è che possiamo importare dei file di cinema 4d all'interno di adobe after effect e renderizzarli direttamente da adobe after effect. Di base lasciamo su classic 3d invece se andiamo su avanzate abbiamo un'altra serie di parametri uno in particolare che è questo sul motion blur che non dobbiamo assolutamente toccare in questo caso perché siamo agli inizi ma sappiate che nel caso in cui doveste modificare dei parametri per il motion blur sono all'interno di questa impostazione. Una volta cliccato su ok noi avremo creato effettivamente la nostra composizione infatti abbiamo all'interno del pannello di progetto la nostra composizione che si chiama comp1 che si è aperta all'interno della nostra timeline e qui nel nostro canvas abbiamo la nostra composizione. Nel canvas possiamo muoverci tranquillamente con la rotellina del mouse per fare uno zoom in o uno zoom out e se premiamo il tasto centrale del nostro mouse possiamo andare a spostarci oppure in alternativa possiamo utilizzare la lettera h sulla nostra tastiera per attivare il cursore della manina o cliccarci qui sopra qui. L'end tool è attivabile anche da qui. Clicchiamo e si attiva. Abbiamo creato la nostra prima composizione. Adesso è tempo di cominciare a lavorarci.